Come si rievoca l'anno 1550 quando Cosimo de' Medici assegna la contea a Balduino di Monte? Quindi c'è tutta la cerimonia che rappresenta la consegna delle chiavi da parte degli emissari di Cosimo de' Medici alla famiglia Balduino di Monte. Come ogni giugno a Monte San Savino torna la cerimonia dell'investitura del conte Balduino con la solenne concessione delle chiavi della città che rivive con cortei e pubblici festeggiamenti una delle pagine più significative della propria storia. Noi siamo contentissimi comunque di non aver mai interrotto la nostra manifestazione che quest'anno siamo giunti alla 25esima edizione. Anche negli anni passati, negli anni più difficili di questa tremendissima pandemia non ci siamo mai fermati. È stata fatta comunque in condizione molto ridotta ma in piazza siamo sempre voluti scendere per dare un segnale delle importanze della nostra manifestazione per il nostro paese. La notte del conte Balduino è in programma per il 25 giugno nel centro storico di Monte San Savino ad animare le notti savinesi dal 17 giugno in poi le allegrezze, il termine con il quale si indicavano anticamente i festeggiamenti che una comunità indiceva pubblicamente in occasione di avvenimenti particolarmente importanti. La chiave di volta della nostra rievocazione è proprio stata quella di riscoprire i vecchi quartieri storici, riattivare le nostre tradizioni e mettere in piazza questi quattro giochi popolari che per la settimana del Balduino allietano e portano in paese tantissima tantissima persone.